sabato 11 di gennaio sarà presentato il testo per un giornalismo oltre l'informazione scritto dall'architetto Giuseppe Ianni non solo docente non solo professionista ma anche giornalista perché questa volontà ecco di raccontare un giornalismo oltre l'informazione ma l'idea in realtà era presente da sempre però l'ho voluta concretizzare in realtà sono oltre 25 anni che molti caporedattori direttori di giornali mi onorano ospitandomi nelle pagine soprattutto nelle pagine di cultura e penso di aver scritto come critica d'arte come interventi artistici fatti importanti e almeno per i lettori appassionati e niente non volevo che questa cosa morisse con il giornale del giorno precedente allora ho voluto fare un libro che raccolise una parte certa solo una parte se pensiamo che in oltre 26 anni ho scritto un 2700 pezzi molti replicati poi tra quindicinali e mensili riviste specializzate quindi una parte ho voluto affermare perché diventasse memoria memoria di un territorio non solo di Castellabate del Cilento e del Salernitano innanzitutto ecco dove si svolgerà l'evento e soprattutto chi saranno gli ospiti ah benissimo niente saremo sabato alle 16 e 30 in Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate e con noi saranno tante belle persone innanzitutto quelli che si alterneranno al tavolo come relatori ci sarà il professore Francesco De Piscopo e ci sarà Antonio Manzo il direttore del quotidiano La Città di Salerno ci sarà Paolo Romano ci sarà il sindaco di Castellabate ci sarà Gennaro Malzone Pietro Gargano ecco tutte queste belle persone che in realtà in questi anni hanno seguito i miei eventi e soprattutto la storia diciamo che mi ha portato all'amore verso il giornalismo ecco grazie a tutti